Quarto weekend per emozioni di primavera, che andrà avanti per tutti i fini di settimana fino a giugno nel Parco Naturale di Porto Conte. Questo sarà caratterizzato dalla liberazione di 14 grifoni nell'area della foresta demaniale sabato mattina. Per l'evento naturalistico che inizierà alle 9, verrà messo a disposizione del pubblico un servizio navetta dalla ditta Cattogno Bus con partenza alle 8.30 da Tramariglio. Le navette effettueranno, come di consueto, anche un'altra partenza da Alghero alle 10, mentre il rientro da Tramariglio per Alghero è previsto per le 15 e le 17. Il costo del biglietto è di 3 euro solo andata e 5 e andata e ritorno. Il pagamento si potrà effettuare comodamente a bordo degli autobus che hanno come capolinea via Catalogna. Anche in questi due giorni a Casa Gioiosa, a sede del Parco, saranno disponibili tutti i musei e gli allestimenti. Non mancheranno le escursioni libere a Calabarca e Monte Timidono a piedi o noleggiando bici e mezzi elettrici. Insomma, un altro fine settimana da non perdere al Parco di Porto Conte.